Sì, io ho modificato un attimo il titolo, non riuscivo a far inserire la depositiva iniziale. Ecco qua, questo è stato su richiesta di Alberto, che ringrazio moltissimo, anzi ringrazio l'istituto per avermi invitato, ringrazio voi, vedo che ci sono molti miei amici che ho rincontrato con piacere. Guardate, io ho l'obbligo istituzionale, come lo Iola, di dire sempre due parole sull'Università dei Gesuiti. Noi abbiamo quattro scuole mediche negli Stati Uniti, e quindi siamo la realtà che forma medici, forse tra le più importanti degli Stati Uniti, e l'Oiola è l'ultima ricostruita, quindi posso definirla come tra le più moderne degli Stati Uniti. Io mi occupo di ossidazione e demenza, essenzialmente, e quindi sono arrivato all'ossidazione partendo dalla demenza, ma eravamo negli anni, nel 1975. Non ho mai voluto occuparmi di tumori e di ossidazione, per un semplicissimo motivo, che ci sono tumori che producono antiossidanti, ci sono tumori invece che non li producono, per cui bisogna stare molto attenti a somministrare degli antiossidanti a pazienti tumorali che hanno tumori, se non si sa valutare lo stress ossidativo in modo corretto, perché altrimenti si vanno a fare dei danni. E poi quando si parla di ossidazione, è un po' come parlare di Dio, ognuno dice la sua, perché anche le verifiche sono un po' così, ho sentito poco fa un collega con la bellissima relazione che ha fatto, che dice che il vino è il più potente antiossidante, ecco, non concordiamo su questo, i più potenti antiossidanti che c'è nel vino non sono certamente quelli naturali, ma sono quelli aggiunti al vino, sono quelli che danno potenza antiossidante, che bisognerebbe quindi cercare di evitare, semmai, di berlo. Esatto, però loro ce li mettono e ti rovinano il vino. No, puoi mettere fino a 150 milligrammi litro di questi antiossidanti, fino a 200 milligrammi litro in alcuni anni, secondo una deroga. Esatto, e non è un antiossidante, soffitto, ma per carità, ma te lo faccio vedere io in vitro. Questa bella discussione poi l'apriamo nella sessione, ecco, nella sessione al termine che si preannuncia interessante e infuocata. Grazie. Benissimo, vabbè, andiamo avanti. Questa è la roadmap, l'ossidazione, la produzione di specie reattive, l'ossidazione passiva e attiva, e lo stato di un soggetto normale in termini di ossidazioni, metodi per determinare lo stesso ossidativo e poi, e qui dovete semmai ringraziare Lanfranchi, perché io ho voluto inserire lo stato ossidativo in un particolare tumore, solo quello, che è il tumore del colon, dove siamo andati a vedere che cosa avviene in quelle condizioni. Bene, sappiamo tutti che c'è la bilancia antiossidante, eccetera, 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 che lo stress ossidativo deriva dal fatto che c'è uno sbilanciamento tra potere antiossidante e ossidazione. È la solita storia. Comunque, la formazione di specie reattive dell'ossigeno avviene per tre motivi, no? Energetica, quando produco energia, reattiva, quando c'è un processo infiammatorio o quando c'è un'infezione, e metabolica, che è quando io devo produrre determinate sostanze. E' chiaro che questo è quello che avviene nei mitocondri, no? Dall'ossigeno si arriva, non c'è un laser, dall'ossigeno si arriva ad acqua, e in questi trasferimenti si formano tutta una serie di specie reattive, che sono inequivocabilmente presenti più o meno a seconda della condizione dei mitocondri. Andiamo avanti e vediamo una forma reattiva, qui ho un polimorfo nucleato, vedete che c'è una captazione di ossigeno, poi una trasformazione per ossido di idrogeno, che è un forte ossidante anche se non è di natura radicalica, e poi si arriva fuori alla produzione del radicale idrossio, che è il più potente ossidante che esista, con un'emivita, diciamo, brevissima, e quindi altamente reattivo. Dopodiché abbiamo quella metabolica, vedete la trasformazione di acido orecchidonico in icosenoide, di dopamina in oradrenalina, siamo una formazione di superossi. Questi sono tutta una serie di enzimi che sono capaci di produrre specie reattive dell'ossigeno nel contesto cellulare, quindi vedete che ci sono dappertutto, dalla membrana al corpusco all'interno al nucleo. Quindi dobbiamo convivere con l'ossidazione. Tanto che c'è un paradigma, questa è l'ossidazione, quando l'ossidazione non c'è, non c'è crescita, quando è troppa c'è la morte, e c'è un tratto intermedio in cui quando è ancora ridotto c'è una crescita incompleta, poi quando sale ad un certo livello c'è il mitogenes, dopodiché quando è troppo su c'è il resto della crescita e poi morte. Quindi vuol dire che noi dobbiamo cercare di stare in un determinato intervallo. Questo lo sanno tutti, queste sono le sostanze più sensibili all'ossidazione, sono i lipidi, poi le antiproteasi. Le antiproteasi sono enzimi anticoagulanti. L'antitrombina terza è un antiproteasi. Quindi quando io sono in stress ossidativo ho la spinta verso la coagulazione, verso la trombosi. Lo sanno bene i donne che prendono la pillola, che sono in stress ossidativo quando si vanno a misurare e che cos'è l'effetto collaterale più frequente, l'ho detto tante volte, gli studenti, gli specializzanti, sono le trombosi meno superficiali perché lo stress ossidativo spinge verso la coagulazione. Bene, però adesso entriamo un attimo nel contesto dell'ossidazione guardandola in un contesto, diciamo, più allargato. C'è un'ossidazione che possiamo chiamare ossidazione passiva, ovvero i componenti funzionali si ossidano per l'ambiente, che è un ambiente che magari è proossidante, e questo è il caso, ad esempio, della propagazione dell'ossidazione quando su un lipide di membrana si è ossidato, tende a ossidare anche quelli che sono vicini per propagazione. E quindi, in questo caso, io posso affrontare questo tipo di ossidazione con gli antiossidanti che ho lì, liberi nell'ambiente, se su una membrana ho un beta-carotene, ad esempio, oppure una vitamina E, riesco in qualche modo a compensare, eccetera, quella condizione. E questa è la tipica ossidazione passiva di una membrana, dove io ho un'alterazione della membrana, possibilità del sodio di entrare. La pompa sodio e potassio lo deve buttare fuori, perché la membrana è fatta per evitare che il sodio entri. La cellula biologica ha gradiente sodio, a differenza di quello vegetale che ha gradiente idrogeno. Quindi, quello che va bene per i vegetali non è detto che vada bene per l'uomo, anzi, anzi, stiamo attenti, no? Vedete i fitosteroli come vengono pompati fuori. Allora, cosa succede? Sodio fuori, potassio dentro, sodio fuori, dentro. La pompa tutto il giorno fa così. Per fare così consuma energia. Se entra troppo sodio, è costretto a pompare di più e quindi produce più sostanze reattive. Questa è ossidazione passiva. che con altre cose che acc sapanещano, che con le fare di più sostella, lei ha overevvito.